Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati. Le cure, i vaccini e le terapie domiciliari, se serve producendo vaccini anche in Italia. I rimborsi economici alle famiglie e alle imprese, veloci, efficaci, recuperando i mesi persi in passato e poi dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture, di ritorno alla vita. Salute e lavoro possono, anzi devono, camminare insieme.